Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti e benvenuti sul canale. Come ho detto anche per un altro video che ho fatto stamattina, tantissimi auguri innanzitutto a tutti gli innamorati, innamorati a vario titolo, anche della vita in generale, oggi è la festa dell'amore, qualcosa di importante, anche se magari c'è un aspetto consumistico come un po' tutte le feste, ma credo che se vi è una festa più opportuna questa lo sia, lo sia perché c'è tanto bisogno di avere dei simboli, ecco, festeggiare qualcosa di bello perché spesso l'amore non è un amore lineare, coinvolgente, ma magari si trasforma qualcosa di ossessivo, di malato, che non ha niente a che vedere con questo sentimento. Quindi l'augurio è che ognuno di voi, ognuno di noi, possa vivere sempre serenamente e avere degli amori, ecco, degli amori, degli interessi, delle passioni, un po' per tutto. Se voi avete la fortuna di incontrare magari l'anima gemella, come si dice, oppure di amare liberamente, è qualcosa di eccezionale perché fa stare bene, fa stare bene sicuramente. Quindi questo è il mio augurio per tutti noi e per tutti voi. E di un amore si è parlato anche per la storia di Liliana De Sinovic, come sapete. E nella vita di questa donna certamente c'è stato tanto amore nella sua vita. Lei ha fatto tanto di quel bene, ha aiutato tante persone, è stata sposata per 32 anni comunque. Poi, a un certo punto, qualcosa è cambiato nella sua vita. Alcuni dicono che è cambiato per quello che io chiamo una storiella d'amore inesistente, che è passata come luogo comune. Questa è che, vedete, quando si parla d'amore in forma ossessiva, è qualcosa che poi non ha niente a che fare con questo sentimento. Comunque, ieri è stata una giornata molto dolorosa, come sapete, perché è stata, insomma, presa, insomma, le spoglie, la barra della bovita di Liliana, e è inviata all'Istituto di Medicina Legale a Milano per la nuova autopsia. Vi devo dire la verità, le immagini che ho visto sono state molto toccanti. vedere quelle scene sono sempre qualcosa di commovente. C'era il marito lì, commosso, eccetera, e mi ha fatto un po' di impressione vedere così nascosto fra i cittressi, come è stato detto, quelle che voleva essere l'alterego, questo sterpine che stava lì quasi nascosto a guardare da lontano. Guardate, veramente, per me è qualcosa di anomalo, perché, come sapete, io penso che lui non c'entri solamente nulla in questa storia, per meglio dire, dal punto di vista sentimentale, di amore, non c'entri assolutamente nulla, ma proprio nulla in questa storia. C'entri forse da qualche altro punto di vista, di interessi, di amicizie, ma il volete essersi catapultato parlando d'amore con Liliana Resinovic, veramente fuori luogo, fuori posto. E poi quel biglietto, privo di qualsiasi vergogna, lasciato sulla lapide lì, e che c'era scritto, scusa, AM puntato, per il vilipendio che subisci, indispensabile per scoprire la verità. Quindi ancora continuare con questi acronimi, AM, AM che nella sua mente, amore mio, cioè queste cose, ma a che titolo consentire, ecco, a una persona qualunque di appose queste cose, poi indispensabile, il vilipendio indispensabile per scoprire la verità. Quale verità? Ancora si continua a generare equivoci su equivoci. Una verità è una verità, certamente ci sia una verità scientifica, ma quello che lui pensa è la verità, è questo suo, diciamo, odio, non si sa che titolo, per il marito, perché la verità per lui è quello di stabilire che il marito abbia delle colpe perché voleva opporsi all'amore di Liliana verso di lui. Una cosa veramente che ha assunto un aspetto di ridicolo, come più ridicolo mai ci sia stata, perché è una storia, come sapete, che non è mai esistita, né documentata, né provata da nulla, da niente e da nessuno. Quindi detto ciò, ci sono state anche molte polemiche ieri, perché nelle varie interviste Sebastiano ha parlato sempre più insistentemente adesso di suicidio e si dice il cambio di rutta, ma certamente io lo vedo una persona molto provata, molto confusa. La sua convinzione, diciamo, per un suicidio è dettata dal fatto che una Liliana che esce di casa senza portare nulla con sé, lui dice se ha lasciato tutto qui può darsi che il concetto sia proprio quello che chissà per quale motivo si sia andato a suicidare. Questo è un punto di vista, diciamo, che però non ritengo che sia cosretto, ecco, non ritengo che sia cosretto perché l'ipotesi di suicidio, io la ritengo probabile soltanto se si riuscisse a dimostrare che c'è stato un miracolo, come dire, un miracolo della scienza, non lo so, un miracolo della natura che quel corpo potesse essere rimasto lì per 20-21 giorni e poi ritrovato. Allora, se la dottoressa Rattaneo riuscisse a dire ciò, allora potremmo parlare di suicidio, ma se la dottoressa Rattaneo ci dice che è materialmente impossibile che quel corpo rimanesse lì 20-21 giorni, ecco che l'ipotesi di suicidio non avrebbe senso, perché un suicidio post-datato non esiste e ne esiste una persona che si suicida e poi qualcuno prende il corpo e poi magari lo viene a destituire. Però perché Sebastiano dice ciò? Io adesso convinto dell'idea, ovviamente sapete che non credo che né lui né altri, insomma, dei soliti noti sia coinvolto fattualmente nella morte, non sono persone in grado di fare mai una cosa del genere. Ma credo che lui adesso, oggi, batta ripetutamente sul suicidio perché nessuno dice mai, mai e poi mai, che vi può essere un'ipotesi che porta altrove, che porta a qualche tipo di organizzazione. Nessuno dice che può essere stata presa, rapita, che qualcuno poteva ricattarla, non so a che titolo, che lei non si sa come sia potuta andare in giri pericolosi e quindi che ci sia questa organizzazione dietro che l'ha presa e poi, e poi, destituita in qualche modo in quelle condizioni, anche come messaggio, come messaggio per chi doveva capire, no? restituita nei sacchi neri della spazzatura. Questo ragionamento non è fatto da nessuno e nemmeno dallo stesso Sebastiano. Perché? Mi sono sempre chiesto perché Sebastiano, nelle varie ipotesi, non lo dice mai nemmeno lui e quindi dice, dice Serpin, vabbè, non esiste tutta quella roba che si inventa lui, però quindi deve essere un suicidio. No, cioè l'ipotesi che è la più probabile, è quella di un'organizzazione che posta fuori, che posta altrove, non viene fatta nemmeno da lui. Perché? Perché nel momento in cui si dice che in casa sua c'era tanto denaro, il denaro cash, il denaro qua, il denaro lì, o magari lui stesso per una vita intera si era sganciato a fare dei certi traffici, diciamo, regolati, per carità, magari mercati, mercatini, comprare a poco, vendere a molto, come dice lui. Allora, questo temere che si vada a scoprire altro è questo, secondo me, il vero motivo per cui non si ipotizza nemmeno e si preferisce stendere un velo e pietoso di dire allora si sarà suicidata. Non si sa perché, ma si sarà suicidata. E' questo, insomma, l'atteggiamento per cui adesso Sebastiano dice sicuramente per lui si è suicidata. Poi, in questi servizi filmati di ieri fanno anche l'intervista a Vura Sterpina, sapete, non so a che titolo, perché lo fanno parlare. Lui dice, io sarei andato a vedere le condizioni di Liliana se a me non me l'avessero fatta vedere, se io fossi stato un parente. Sarei andato a casa a prendere un'accetta, figuratevi, per aprire con forza la cassa, perché non è possibile che non si possa vedere. Sono espressioni, ovviamente, tipiche. E quindi ciò è stato fatto vedere a ore 14 e quindi non trovo, assolutamente, non trovo corretto, appunto, che venga dato rilevo in questo giorno così triste a un personaggio che formalmente non c'entra, perché era qualcosa in cui c'entra sicuramente la famiglia, fratelli, cugini, il marito, ma dare spazio a una persona che formalmente non c'entra veramente è qualcosa che dispiace. Ecco. Poi, a ore 14, c'è, insomma, ospite anche la, come sempre, la Bruzzone, che, ecco, si è ricreduta un po' su Sebastiano. Ricordo, i primi tempi, si assistivano a degli scontri episodi epici con Sebastiano, poi, poi, ci è dovuto ricredere, insomma, forse ha avuto modo di constatare, anche un po' dall'alto della sua esperienza, come, in effetti, ci fosse un po' di accanimento con secondi fini. quindi, la stessa Bruzzone, Bruzzone, parla sicuramente di ipotesi da scartare il congelamento, quindi, scartando l'ipotesi del congelamento, ecco che ritorna quella che è anche, diciamo, la mia idea prevalente di una morte che dovrebbe risalire ai primi giorni di gennaio. Perché, vedete, come vi ho detto all'inizio, e sono confruttato in questa anche dalla Bruzzone, se viene scartato scientificamente l'ipotesi di congelamento, e allora o si deve dimostrare che un corpo sia stato lì per 21 giorni senza evidente decomposizione, oppure si deve pensare a una mostra intorno al 3 di gennaio e un corpo fu stato lì. Allora andiamo sempre punti a capo. Nel momento in cui si dovesse confermare questo tipo di ipotesi, allora dovremmo pensare molto intensamente che c'è qualcosa che va al di fuori di questa storiella, c'è qualcosa, perché una morte risalente poi all'inizio di gennaio deve far pensare a un'organizzazione che l'ha tenuta prigioniera, che voleva da lei qualcosa, non si sa come, perché questo fa parte degli inquirenti, non mi si può dire ma non non c'è la dimostrazione ma perché di che cosa c'è la dimostrazione? Se questa ipotesi che lei sia stata rapita in qualche modo perché volevano qualcosa da lei poi è stata restituita, è stata ammazzata ma ma se non c'è ovviamente dimostrazione di ciò che è un'ipotesi ma di che cosa c'è dimostrazione allora della storiella d'amore di che cosa? C'è la dimostrazione che lei magari sia andata a nascondere per sfogliare la margherita prima di suicidarsi il giorno 3 gennaio cioè è più logico andare appresso a queste a queste ipotesi balzane cioè queste ipotesi assurde come come lo stesso con la Figo mi sembra si chiama in trasmissione lì a ore 14 che che dice no possiamo pensare che lei sia andata in una sorta di bunker una sorta di di rifugio segreto dove dove è stato lì e poi a un certo punto ha deciso di suicidarsi cioè è più ragionevole credere a queste cose così folli di una Liliana che esce non si porta niente con sé poi va da qualche parte dove lei ha stabilito di voler stare 20 giorni e poi il suicidio senza avere niente con sé e non è più credibile invece che sia andata a imbattersi in qualcosa di complicato per cui poi ha fatto quella fine non mi si può venire a chiedere a me di dimostrare l'ipotesi economica l'ipotesi economica in che giro poteva essere finito il perché il per come non me lo si può venire a chiedere perché questo è un compito che spetta a chi ha questo compito cioè a chi fa indagine ovviamente che se non si prende una certa direzione ovviamente che queste indagini non vanno a proseguire se le indagini vertono sempre esclusivamente sulle sulle bagianate la storia d'amore voleva lasciare il marito il divorzio la casa le braga di tela queste cose qui è ovvio che non si va da nessuna parte ma perché ma è più dimostrata la storiella non c'è dimostrazione di nulla quindi è molto più ragionevole pensare invece a questa ipotesi alternativa che nessuno fa né in tv né sui giornali e non lo fa nemmeno Sebastiano nemmeno Sebastiano lo fa perché in qualche modo in qualche modo non conviene nemmeno a lui e tantomeno conviene a Serpin perché Serpin in questo suo paradosso di cercare affannosamente quella mattina dovrebbe dare mille spiegazioni Sacchinere e compagnia bella dovrebbe dare mille spiegazioni del qual era la sostanza vera di quelle telefonate di quelle telefonate brevi il centro di smissamento la cantinola la soffitta dovrebbe dare mille spiegazioni e allora è più credibile ma io dico no ma è più credibile un'ipotesi alternativa seria o è più credibile che uno faccia la costa a una donna portandola a guardarla negli occhi nella cantinola nella soffitta nel garage ma vi rendete conto che stiamo parlando veramente di una commedia dell'assurdo questo è questo è che volevo dire ora quindi poi mi sono segnato qualche altra cosa perché poi c'è stata anche la vita indiretta però prima volevo volevo dire che il conduttore di ore 14 milo infante qualche a un certo punto si fa delle domande però raccoglie nulla dallo studio perché a un certo punto milo infante dice ma sicuramente a mio avviso quella mattina la Resinovic ha incontrato qualcuno che l'avrà presa però ecco che quel suo assist conduce i commentatori dello studio a dire sì probabilmente è stata presa in macchina e poi ecco che questo fatto che lei va in macchina dall'innesco alla alla racconto che è diventato anche questo un must cioè un'abitudine a dire sì è stata presa in macchina poi c'è stata una discussione poi c'è stata magari un schiaffo pugno questa cosa lei è svenuta ha avuto un malore e poi colui che stava con lei non sapendo cosa fare evidentemente non so l'avrà nascosta l'avrà postata da qualche parte cioè è incredibile che tutto si ipotizza fu che dire quello che secondo me è la ragionevolezza cioè ma vi sembra più probabile no? che la Resinovic quella mattina possa essere salita in macchina non si sa con chi perché poi non è stata dimostrata che è stata in macchina né con Sebastiano né con lo Serpine né con con i vicini di casa con nessuno no è stata in macchina con qualcuno con qualcuno di conosciuto così genericamente poi la discussione il malore e dopo questo malore che uno di loro l'abbia portato dove? se è stato escluso anche il congelamento dove viene portato? no allora quando uno dice magari è stata presa in macchina sì magari è stata una persona sconosciuta invece sconosciuta che faceva parte di qualcosa di qualcosa di altro tipo di altro tipo di interessi qualche malcapitato che aveva altri interessi su di lei e e che quindi l'hanno la o l'hanno rapita l'hanno portata altrove no questa cosa qui non si dice proprio ma si parla sempre della stessa storiella qua addirittura c'è chi ipotizza che lei si sia ritirata da 20 giorni in un convento per poi andarsi a suicidare quindi per me è molto più probabile un omicidio di tipo rituale insomma con una restituzione in quei termini là poi nella vita indiretta nella vita indiretta ecco il cliché è sempre lo stesso è uguale anche qui devo dare testimonianza che anche alla vita indiretta c'è qualcosa di scandaloso quando si dice testualmente nel servizio si dice c'era anche presente lì seminascosto sempre da lontano seminascosto così tra i cipressi lo seminascosto lo serpino l'uomo si dice l'uomo che l'ha amata di nascosto ecco l'uomo che l'ha amata di nascosto a che titolo si dice questo dove è dimostrata questa cosa soltanto perché ipse dixit cioè perché lo dice una persona lo dice e questo dire diventa una realtà è un luogo comune ovviamente che per me rimane rimane un'offesa all'intelligenza umana perché è qualcosa che non è dimostrato da niente da nessuna cosa né testimoniato da alcuno voler attribuire ancora a distanza di tempo questa questa cosa così ridicola è è offensivo è oltraggioso quindi addirittura sempre nella trasmissione quando viene intervistato quando viene individuato fra i cipressi allora viene individuato così fra i cipressi allora il il cronista va vicino per fargli dire qualcosa e lui addirittura critica la presenza ecco di quello che è il marito perché nel bene o nel male quello è stato il marito per 32 anni e dice come fa a starci lui il vedo allegro cioè a criticare la presenza del marito che stava lì a pieno titolo se non ci fosse stato sarebbe stato ulteriormente criticato perché perché dice ah non c'è stato c'è stato e viene criticato perché c'è stato e lui a che titolo stava lì un perfetto estraneo ecco formalmente estraneo e lì è da domandarsi cosa ci stava a fare e a che titolo viene intervistato solo per fare gossip per fare share un perfetto estraneo non solo alla famiglia vedete ma un perfetto estraneo anche agli amici ma questi sono dati oggettivi non sono polemiche per carità per carità poi sarà la persona più brava del mondo un atleta stupendo ma era un estraneo in questo contesto è strane anche agli amici perché questi amici di Liliana e di Sebastiano nessuno lo conosceva questo tizio nessuno lo conosceva non faceva parte degli amici dei pranzi delle scene ma nemmeno anni prima mai né pranzi né cene né amici di pedalata né amici di sauna né amici di gita niente mai mai fatto parte di un contesto di Liliana mai quindi a che titolo non si sa soltanto perché uno si autodichiaria ecco io mi autodichiaro di essere non so il capo di strada del Burundi allora lo sono perché ho dichiarato di esserlo è qualcosa di incredibile quindi ed è incredibile perché poi viene riconosciuto a lui un solo inesistente perché perché così va bene in quanto poi si si può parlare male di un'altra persona quindi trovo qualcosa veramente incredibile di cui non ci si capaciti insomma va bene comunque c'è questa dicotomia ecco quindi che emerge nella trasmissione fra la teoria adesso di Sebastiano che è prevalentemente incentrata al suicidio ma più che altro un suicidio o istigazione al suicidio per dire meglio perché Sebastiano dice probabilmente si sarà tolta la vita non so come mai cosa è successo cosa è potuto succedere quindi è un'ipotesi diciamo di suicidio o di istigazione al suicidio mentre questo Serpin dice secondo lui no è omicidio è omicidio perché giustamente il fine è quello lì ma vedete bene che poi la stessa ipotesi di suicidio se fosse confermata sarebbe l'ennesimo fallimento per lo stesso Serpinio perché capirete bene che tutta la favoletta inesistente che ci è andata ad raccontare che questa povera Liliana gongolava per andare da lui avevano deciso tutto il weekend non vedeva l'ora le lenzuole di lino le cose a modemiglio cento volte al giorno a modemiglio tesoro non vedeva l'ora di e poi uno si suicida e allora che cosa ci sei venuto a raccontare e quindi e quindi insomma è quella la convinzione poi e questo diciamo questo sostanzialmente è uno spettacolo vedete che ieri si sarebbe potuto risparmiare vedete a volte tutte queste televisioni lì a riprendere le operazioni della bar così vari giornalisti a fare queste interviste purtroppo c'è una spettacolarizzazione incredibile intorno a questo caso ormai più di due anni Sebastiano adesso che dice che andrà a tutti i programmi tra poco stasera sarà chi l'ha visto e ci sarà ci sarà il solito trantrano di accuse incrociate magari ecco gli faranno dire delle parole poi faranno vedere l'alterego Serpini che dice no l'amante l'amore ecco si va avanti su tutte le le tv ecco da tutti i lati con tutti i mezzi si andrà avanti a continuare questo balletto che può essere fermato soltanto ecco dalla dalla procura però la procura adesso non può agire finché finché non ci saranno i risultati della dottoressa Cattaneo che sicuramente ci vorranno alcuni mesi qualche mese almeno non serviranno sicuramente a niente ho avuto molti confronti con persone titolate insomma sarà un lavoro della Cattaneo utile dal punto di vista scientifico ma inutile dal punto di vista delle indagini dal punto di vista scientifico si potrà dimostrare se quei colpi quelle cose quelle lesioni siano più o meno profonde si potrà ecco sull'epoca della mostra sicuramente non si potrà fare niente niente di preciso perché per quello che è rimasto a distanza di due anni e due mesi ma si potrà mai mai si potrà stabilire il giorno ma nemmeno una settimana della mostra perché capirete che il range tra il 14 di dicembre del 2021 e il 3 4 di gennaio 2022 sono una ventina di giorni per cui come è possibile mai restringere ancora questa forbice su quello che rimane di un corpo dopo due anni e due mesi quindi sarà magari qualcosa di interessante più sulle cause sulle cause che potrebbero aver provocato la mostra ma dal punto di vista delle indagini non cambierà niente non potrà cambiare niente quindi ci sarà il soldo a balletto prima dell'inevitabile archiviazione dell'inevitabile archiviazione ma vi dirò di più un'archiviazione che è già pronta per suicidi anomali se proprio la dottoressa Cattaneo dovesse trovare elementi che inducono a un omicidio elementi forti che inducono un omicidio sarà la stessa cosa perché ci sarà la schiviazione per omicidio da parte dei gnoti perché poi dato che ovviamente non è stata aperta la pista che porta magari all'estero che porta a qualcosa che viene da fuori a qualcosa di complicato che porta a una banda che porta a qualcosa di organizzato visto che non è stato fatto questo è ovvio che l'omicidio sarà a carico di gnoti perché nei confronti di questi 7-8 personaggi che suotano nella vicenda non c'è niente non ci può essere niente anche se poi si fanno come dire le pulci a una un'altra a Sebastiano in particolare non si può trovare niente perché niente c'è per cui ecco che comunque l'archiviazione sarà un bene alla fine sarà un bene perché dato che l'indagine non ha voluto seguire la pista economica non l'ha voluto seguire né altre piste per carità né altre piste che conducono a qualcosa altro non sono state seguite e c'è stato questo ignobile balletto di questa inesistente storiella d'amore il weekend allora ecco che il risultato deve essere soltanto la scriviazione perché purtroppo ci si è impantanato in questa roba che non esiste e essendo rimasti impantanati non si riesce più ad andare avanti a fare nulla queste sono le mie considerazioni di oggi quindi vi auguro una buona giornata ancora ancora tantissimi auguri che possa l'amore trionfare su tutto grazie e un abbraccio a tutti e un abbraccio Grazie.